Vorrei ringraziare il Cardinale Arcivescovo e tutto il popolo milanese per la calorosa accoglienza di ieri. Veramente, veramente, mi sono sentito a cassa, e questo con tutti, credenti e non credenti. Vi ringrazio tanto, cari milanessi, e vi dirò una cosa. Ho constatato che è vero quello che si dice, a Milano si riceve il colcor in mano. Grazie.